Musica Buonasera gentili telespettatori e bentrovati da una nuova edizione di Honor News, il telegiornale di UTVRS. Dolore e sconcerto, affermo, un medico di 41 anni, Luca Ubaldi, apprezzatissimo e conosciuto in città, è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento, all'ultimo piano di uno stabile, in via Agnozzi. La macabra scoperta è stata fatta da un amico che ha subito lanciato l'allarme, ma al momento del loro arrivo i soccorritori della Croce Verde non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'ipotesi al momento più probabile che si sia trattato di un suicidio sull'episodio, comunque, indaga la locale questura. Al termine di una lunga attività investigativa, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro ha identificato uno dei più influenti gruppi di hacker informatici. Con il camcording registravano film proiettati in prima visione nelle sale cinematografico, serie tv su emittente a pagamento e poi distribuivano i file in rete, dopo averli elaborati ed ottimizzati al fine di lucro. Le indagini hanno portato ad eseguire perquisizioni domiciliari in quattro regioni, tra cui le marche, con sequestri di pc, smartphone e oltre 800.000 file. Quattro gli hacker italiani denunciati che si nascondevano dietro a numerosi nickname. E sempre le fiamme gialle, ma di Civitanova, hanno accertato il mancato versamento di circa 700.000 euro da parte di un dentista del posto, decisivo il ritrovamento di documenti in una valigetta gettata in un cespuglio, a far scattare le indagini l'elevato tenore di vita dell'uomo a fronte di quanto dichiarato al fisco. E' la longa manus della finanza anche su un noto imprenditore. I dettagli in questo servizio. Usura, estorsione, gioco d'azzardo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, prostituzione nonché indiziato di trasferimento fraudolento di valori. E' questa la lunga lista di accuse che ha portato la finanza di Ancona ad un maxi sequestro nei confronti di un imprenditore attivo nell'edilizia e nella gestione di locali notturni, sessantenne, nato in provincia di Foggia e stabilmente radicato nel Terramano. Le indagini avevano preso spunto dalle importanti attività commerciali e iniziative imprenditoriali che nell'ultimo ventennio avevano consentito al soggetto di acquisire direttamento per interposta persona, familiari, anche se non più conviventi e compiacenti prestanome, il controllo e la gestione di un reticolo societario dispiegato attraverso Marche, Abruzzo, Lazio ed Emilia Romagna, mediante il quale operava nel settore dell'intrattenimento con la gestione di locali notturni e in quello immobiliare ed edile. Sequestrati beni immobili e immobili per un valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro. Ancora cronaca, attimi di paura, ieri pomeriggio a Porto Recanati per la scomparsa di un bambino di due anni. Il piccolo si era allontanato dall'asilo nido eludendo la sorveglianza degli insegnanti. È stato notato da un passante spaisato ed in lacrime. Accompagnato presso un locale commerciale sono stati avvertiti i carabinieri. Il bimbo comunque al momento di riabbracciare la mamma, comprensibilmente spaventato, era in buone condizioni. Disagi relativamente contenuti nella nostra regione per l'ondata di maltempo. La neve è caduta soltanto in montagna. Nell'entroterra, la scorsa notte, i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere in casa una coppia di anziani in una frazione di sassoferrato isolata dalla neve. Imbiancate le zone colpite dal terremoto. Nessun problema alla viabilità, anche per il continuo lavoro, di mezzi sgombra neve e spargisale. Cambiamo argomento. È stato presentato oggi in regione il convegno internazionale dedicato a Lorenzo Lotto, che si svolgerà a Loreto dal 1 al 3 febbraio. L'iniziativa chiude anche la mostra di macerata, che ha avuto oltre 15.000 presenze. Manolita Scocco. Assessore, un convegno internazionale di tre giorni per scoprire ancora di più questo grande protagonista alla fine di un percorso che nelle Marche ha registrato numeri incredibili e grandissimo apprezzamento. Questo convegno che abbiamo cantierato insieme alle altre città lottesche e insieme alla delegazione pontificia è nella data l'1, l'2 e l'3 febbraio, vuole essere la prosecuzione di un progetto che abbiamo costruito sul Lotto. Questa prosecuzione farà sì che i maggiori esperti internazionali del Lotto saranno presenti nelle Marche, in questo caso a Loreto, per ragionare su questa figura che ogni volta che viene presentata viene riscoperta. Quindi il Lotto per noi diventa un momento fondamentale per una crescita, non soltanto culturale. Poi i dati hanno dato ragione. Più di 15.000 presenze ad oggi, quindi ancora avremo alcuni momenti per chiudere questa mostra. tutta questa rete delle città lottesche, che sono state coinvolte, otto della nostra regione, sono rimaste entusiaste di questo progetto, un progetto che deve essere propedeutico ad altri. Francesca Coltrinari cura il convegno che si terrà a Loreto dal 1 al 3 febbraio. Lorenzo Lotto, contesti, significati, conservazione. Che occasione sarà e perché un convegno? Sarà un'occasione insieme di studio e di valorizzazione di Lorenzo Lotto che va a chiudere quest'anno incredibile dedicato a questo artista. Quindi riunirà alcuni dei maggiori studiosi di Lorenzo Lotto da tutto il mondo. Avremo una grande presenza internazionale e sarà un modo per approfondire la conoscenza di questo grande maestro del rinascimento. Alla conferenza hanno preso parte anche alcuni degli amministratori locali delle città lottesche Montsan Giusto, Cingoli, Iesi, Loreto e Macerata. La Giunta Comunale di Fermo ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle scogliere emerse lungo il litorale sud a Marina Palmenze, progetto per il quale nel giugno 2018 è stata sottoscritta una convenzione fra Comune di Fermo, Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana e che ha per oggetto la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle stesse opere di difesa per un importo di 1.600.000 euro. Un intervento a protezione della costa e delle infrastrutture con 5 scogliere a mare in grado di proteggere 900 metri di costa. Pagina sportiva molto ampia oggi partendo dal calcio con la disputa della terza giornata del girone di ritorno in Serie C. Iniziamo purtroppo dalla pesante sconfitta casalinga del Fano che dopo la bella impresa compiuta a Terni è stato battuto 3-0 al Mancini dal Sud Tirol. Prestazione sotto tono di Granata dove sono mancate soprattutto le punte Ferrante e Scardina, protagonisti invece della vittoria di sabato scorso. Alto a Tesini in vantaggio nel finale del primo tempo con De Rosa e che arrotondano poi il risultato con Vinto e Morosini. E' affiorato anche molto nervosismo, culminato poi con l'espulsione di Malocu nel giro di appena un minuto. Molto atteso invece si è disputato al Benelli il derby tra Vispessero e San Benedettese è terminato in parità 1-1 ma con molte emozioni. Vediamo. Un derby equilibrato, divertente, senza un attimo di pausa, giocato per di più su un terreno, reso estremamente viscido dalla pioggia. Vispessero San Benedettese non ha tradito le attese dei coraggiosi che hanno sfidato il freddo al Benelli con due compagini che ci hanno dato dentro dal primo al novantesimo. L'1-1 finale complessivamente ha un risultato equo. Alla fine anche le recriminazioni sono in sostanziale parità nella vista da registrare il positivo esordio di Marco Guidone. Cronaca molto densa sin dall'avvio calcio di punizione battuto da Petrucci. Pegorin intercetta la sfera ma non riesce a bloccarla. Il portiere della Samba se la cava in due tempi, subendo poi anche fallo da un avversario che cercava di approfittare della situazione. Il nuovo acquisto ex Padova si fa vedere attorno al quarto d'ora con una conclusione dalla distanza che termina alta, sopra la traversa. Prima opportunità per la San Benedettese al ventunesimo. Gran giocata di Russotto nei pressi del centrocampo. Pallone appoggiato dalle parti di Rapisarda che va al centro da stanco che calcia dalla distanza trovando però una deviazione. Gran destro a giro, trovato da Tessiore, incertezza di Pegorin che respinge per vie centrali, per sua fortuna un compagno, mette il pallone in calcio d'angolo evitando guai seri. Trentacinquesimo, altro lampo di Marco Guidone che ha intercettato un cross dalla destra di Pastor spedendo il pallone di un soffio alla sinistra della porta difesa da Pegorin. Petrucci si rende pericoloso direttamente alla battuta di un calcio di punizione da posizione defilata, buon sinistro trovato da ragazzo di arcuata. Pegorin è attento e respinge coi pugni. Ripresa è ugualmente movimentata e dopo un'iniziativa del solito Petrucci in avvio la Vispesero passa in vantaggio alla minuto numero 18. Apertura sulla destra dei Diop ancora per Petrucci il numero 7 Biancorosso si accentra e calcio alla distanza. Una deviazione mette in difficoltà Pegorin. Il portiere rosso-blus virgola la sfera e favorisce il tappin vincente di Marco Guidone praticamente da 0 metri sbloccando così il risultato. In meno di 20 secondi però dal suo ingresso in campo Pelia Calderini scrive il suo nome nel tabellino dei marcatori pareggiando per la Samba al settantesimo. Cross teso di Russotto tutto facile per l'attaccante classe 88 che da due passi trafigge Tomei. La gara poi si conclude su una cannonata tentata da Petrucci ancora un intervento tutt'altro che sicuro per Pegorin. Bravo comunque a bloccare la sfera in due tempi. Finisce in parità e forse è giusto così. In classifica i rosso-blus sono a quota 31 al sesto posto insieme a Vicenza, Feralpi e Suttirol ma con una partita in meno. A 30 invece la Vispesaro con Ternana e Monza. Da recuperare lo ricordiamo Ternana a San Benedettese vuole in vette il Pordenone addirittura più 10 dalla Triestina con i frulani che assaporano davvero la Serie B. Nel prossimo turno sabato pomeriggio alle 14.30 la San Benedettese riceve la Gianna Erminio la Fermana se la vedrà a Recchioni con il Renate e la Vispesaro sarà a Terni. Alle 18.30 fan invece sul campo della rivelazione imolese. Ed occupiamoci ora della Fermana che intanto oggi ha ufficializzato l'arrivo in prestito del centrocampista classe 1998 Umberto Oriente, napoletano che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della Viterbese. I gialloblu hanno pareggiato a Gorgonzola ma non mancano le recriminazioni. Vediamo. Viene raggiunta rocambolescamente nel finale protesta per un gol annullato in pieno recupero la Fermana che si accontenta di un pareggio a Gorgonzola sul terreno di una battagliera Gianna Erminio che a dispetto della sua posizione di fanalino di coda ha davvero venduto carissima la propria pelle. Lombardi con Cesare Alba in panchina dopo le dimissioni presentate da Bertarelli. Tra i gialloblu reduci dallo splendido successo con il Feralpi Salò ci sono Clemente, Cremone e Misin dal primo minuto. Primo tempo molto spezzettato e le occasioni latitano. Padroni di casa però molto insidiosi al ventitresimo contropiede da manuale di Biancazzurri con il centrocampista Pinto che colpisce il legno ma era tutto fermo per fuorigioco ravvisato da Saia di Palermo. Quasi a sorpresa la Fermana si porta in vantaggio al trentanovesimo con Maurizzi che approfitta di una difesa locale troppo morbida per infilare il portiere Leoni per l'esultanza degli oltre cento tifosi ospiti che si sono sobbarcati una bella quantità di chilometri per essere vicini nella propria squadra nel ricordo di Alvaro Falconieri scomparso nei giorni scorsi. Riprese dall'ottavo c'è un palo della Gianna Erminio con Rocchi dal calcio d'angolo arriva il colpo di testa del difensore che si stampa sul legno. Contropiede della Fermana che trova la conclusione del nuovo entrato Sperotto e la risposta salvifica di Leoni. Nel finale il pareggio del Gianna Erminio rimpallo favorevole a Lunetta che trova un assist al bacio per la deviazione di Jefferson che in piena area di rigore non perdona gli ospiti. Nel finale come detto un gol annullato a Cremona che desta più di una perplessità. E ricordiamo che mentre stiamo andando in onda si sta giocando la finale della Coppa Italia di eccellenza a Tolentino tra i Cremisi ed il Fabriano Cerreto ne parleremo diffusamente nell'edizione di domani del nostro telegiornale. E siamo al basket con la termoforgia Iesi comunica di aver raggiunto un accordo sino al termine della stagione con l'americano Preston Knowles guardia di 185 centimetri classe 1989 e alla terza esperienza italiana dopo aver giocato in Serie A con la maglia di Pistoia nella stagione 2015-2016 e in quella corrente tra le fila di Tortona Serie A2 Girone Ovest un ulteriore atto di volontà da parte della società per cercare di conquistare la salvezza. E vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 24 gennaio. Da Moplan Arredamenti a Castelplanio continuano le promozioni e gli sconti. Una visita è d'obbligo per chi lo showroom è completamente rinnovato. Linee, rapporti, materiali, colori si respira il nuovo, la bellezza, la modernità della casa di oggi anche su misura del tuo spazio. Varie possibilità di pagamento. Moplan Arredamenti a Castelplanio viene sempre incontro perché da sempre è dalla tua parte. Bentornati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it Previsioni per giovedì 24 gennaio. Al centro, tempo instabile sulle regioni adriatiche con piogge temporali, piovaschi sul Lazio e rovesci diffusi in Sardegna. Vediamo le temperature. Di notte i valori saranno compresi tra meno 3 e 10 gradi un po' su tutte le nostre regioni. Durante il giorno attendiamo invece fino a 10 gradi al centro nord, punte di 12 gradi al sud. Calcio giovanile prima di chiudere con il resoconto dei vari campionati tra gli juniors nazionali tornata del tutto tranquilla. Le grandi hanno vinto tutti in attesa dei confronti che chiariranno le posizioni di classifica. Il duello al vertice è ristretto tra Re Canatese e San Giustese che nel turno appena ha lasciato alle spalle hanno entrambe vinto. I calzatorieri hanno superato la Iesina nel derby mentre la Re Canatese di Mister Dottori ha vinto a Giulia Nova. Tra gli juniors regionali nel girone A vola l'Urbania Capolista che vince 2-1 a Gradara. Nel gruppo B Villa Musone sbanca Marino 1-0 e conquista la vetta. Nel girone C Civitanovese colpo esterno battuto il porto dei Canati 1-0 ed infine nel girone D la capolista atletico Ascoli vince 2-1 a Montalto ma non molle il porto Sant'Elpidio che si impone per 3-2 a Monturano. Con questo è tutto grazie per la cortesa attenzione ed appuntamento a domani. Grazie.